Da carabinieri a Partigiano, da Roma a Talla, dove Angelo Valentini trovò la morte. La storia di un carabiniere che, come tanti altri suoi colleghi trovati si soli, dovettero fare una scelta e combattere per difenderla. Ma la storia di Valentini è anche una storia di dolore. La sua morte, infatti, avvenuta il 10 luglio del 1944, esattamente 80 anni fa, gettò nella disperazione la moglie che ne impazzì. La bimba fu affidata ad un orfanotrofio e poi ai parenti. A riscoprire la storia di Valentini, il comandante dei carabinieri della stazione di Talla, il maresciallo Nizar Bensellam, che ha preso parte, insieme al sindaco Eleonora Ducci, alla commemorazione a cui hanno partecipato anche il comandante del provinciale di Arezzo e il nuovo comandante della compagnia di Bibbiena. Belle le parole del sindaco che ha definito Valentini un esempio di come in tanti e in tante hanno contribuito alla guerra di liberazione. A raccontare la sua morte, Amos Occhiolini, detto Monti, purtroppo Lilli, scrive, terminò le munizioni in dotazione e venne a trovarsi nell'impossibilità di difendersi e fuggire. A quel punto, non potendo fare diversamente, si nascose in mezzo ad un campo di grano, nella speranza di non essere individuato e quindi salvarsi. Ma poco dopo venne individuato e catturato. Sotto scorta fu accompagnato dai tedeschi al loro comando di Talla, dove i soldati informarono il maggiore comandante della cattura di un partigiano. Costui, in applicazione delle leggi di guerra tedesche, ordinò la morte del partigiano. Dopo due giorni, 10 luglio del 1944, Lilli fu impiccato ad un albero davanti alla scuola, poco lontano dal torrente Capraia, e qui lasciato a penzolare affinché la popolazione di Talla comprendesse l'ammonimento, accessare l'aiuto alla resistenza. Nell'occasione erano presenti i parenti di Valentini, l'emozione dunque è stata fortissima. Piccole storie di piccoli eroi quotidiani che hanno fatto grande però il nostro paese.